Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video di Adoptimi Oggi vi mostrerò tre trucchi per entrare sempre in server ricchissimi Ma prima di iniziare mi raccomando lasciate un bel mi piace a questo video Iscrivetevi al canale e non dimenticatevi di cliccare sulla campanellina per attivare tutte le notifiche Detto questo iniziamo subito Oggi non ci troviamo dentro un server perché siamo sulla pagina principale di Roblox Come ho già detto prima oggi vi mostrerò ben tre modi per entrare sempre in server ricchissimi Premessa se mi vedete un po' strano se tossisco ogni tanto è perché non sto molto bene Mi fa male la gola e un po' di influenza Ho deciso comunque di registrare lo stesso questo video Anzi registrerò anche un altro video dopo questo Perché nel caso in cui domani stia davvero male almeno dei video mi sono portato avanti insomma Quindi se mi vedete strano è per questo Torniamo al video e stavo dicendo che vi mostrerò ben tre trucchi Il primo credo che sia quello più banale quello che conoscete un po' tutti Ed è praticamente quello di andare a cliccare qui sull'icona adotmi Se siete dalla versione desktop Se siete dalla versione mobile mi sembra che dovete andare a cliccare sempre sul gioco e tre puntini in basso Non ricordo bene perché gioco veramente poco dal cellulare Comunque andando qui in basso su server Potete vedere che ci sono un sacco un sacco di server Per entrare in un server ricco dovete praticamente andare a vedere sulle icone degli avatar dei personaggi Dovete andare a cliccare su quelli che secondo voi hanno scioppato la skin Ad esempio qui ce ne sono tante La maggior parte delle volte ho notato che quelli con la skin un po' cnp Un po' d'archettona tipo questo qua In genere è un server ricco Quindi voi cliccate qui su unisciti E dice che Roblox si starà caricando eccetera eccetera Come potete vedere qui adesso praticamente Dice nuovo tentativo E questo numerino qua che è successo è 16 Crescerà sempre di più perché saranno le volte in cui Roblox proverà a farvi entrare all'interno del server Adesso questo qua è il metodo più lento Ci metterà un sacco per entrare A volte può andarvi di fortuna E potete entrare subito A volte potete aspettare tipo 30, 40, 50, 100, 200, 300 E' un po' così un po' in incognita Ma comunque questo qua è quello che diciamo usano un po' tutti per entrare nei server ricchi Ed è quello più lento Adesso aspettiamo di entrare E nel mentre colgo questo momento per dirvi che Avevo detto sto registrando questo video di venerdì Perché oggi è venerdì 8 aprile E avevo scritto sul gruppo Roblox Che mi raccomando se non siete ancora entrati Ve lo lascio giù in descrizione E mi raccomando entrate Perché è lì che comunque parlo con voi E che vi chiedo cose, consigli Quindi mi raccomando entrate E stavo dicendo che vorrei fare una live Avevo detto che la facevo sabato 9 Quindi domani Che per voi adesso che state guardando questo video Ma invece credo di non farla Perché ho paura di star male E di dover annullare tutto quanto Ed è una cosa che non voglio fare Quindi vorrei posticipare il tutto per questa domenica Ovvero domenica 10 10 aprile sì E la vorrei fare verso le 4 Verso le 16 Le 4 di pomeriggio Fatemi sapere qui giù nei commenti se vi va bene Comunque poi scriverò anche nella community tab Che è una cosa un po' nuova Perché la community tab ce l'ho tipo da due giorni E lì comunque andrò a chiedere A scrivere Ad informarvi Annunciare i vincitori di giveaway A chiedere sondaggi Queste cose qua Quindi fatemi sapere Un po' cosa ne pensate della live Non so sinceramente cosa andrò a fare Perché c'è la settimana quella Che ci metti di meno a schiudere le uova Quindi magari vado a schiudere un po' di uova Ne approfitto Non lo so Vediamo poi cosa fare Come potete vedere qua siamo al numero 33 Quindi questo numero andrà su 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 Adesso taglierò il video E ci vediamo direttamente Quando entriamo all'interno del server Ok Siamo finalmente riusciti ad entrare Dopo credo 6-7 minuti Quindi come vi ho detto anche prima Questo qua è il metodo più comune Più lento E ci metterete un sacco E Oltre a questo Non è probabile che il server sia ricco Io vado un po' a sentimento Oddio c'è la nuova casa Che non vi posso spoilerare Quindi taglio questo pezzo E riesco fuori di casa Sì ok Sono stato fortunato Ho avuto ragione Questo qua è un server Non ricchissimo Abbastanza ricco Mi sembra un server un po' neon Perché vedo tanti neon Neon corvo Neon drago Neon unicorn Neon snow owl Addirittura mega snow owl Insomma Molti neon Un altro neon unicorn Vabbè insomma Tanti tanti pet E come potete vedere Sì è un server ricco Quindi ci metterete un po' ad entrare Ci vorrà un pochino Però comunque è un server ricco Mentre che sono qui Provo a fare qualche scambio Perché voglio provare Ad ottenere un po' di pet Che non ho Ok ci ha mandato una richiesta XC LOL Qualcosa E per un cerbiatto rai Ci offre un cerbiatto normale E una white tiger No Io equipaggio Il lavender dragon Che comunque Ho notato che il lavender dragon Non è un pet che molti vogliono Vabbè Comunque mi dispiace un sacco Devo uscire da questo server Ma mi dispiace davvero davvero Un sacco E nulla Devo uscire da qui Mi dispiace E vado direttamente a mostrarvi Il metodo numero 2 Ok Allora Metodo numero 2 Siamo di nuovo sulla pagina principale Di roblox E per far questo metodo Dovete andare Sulla sezione gruppi Che nel mio caso Qui su desktop E sulla mia sinistra E andando su gruppi Qua mi dice Vabbè Qua mi da il mio gruppo Federico Blablabla Forse ho sbagliato Non devo andare qua Vabbè Comunque Andate su cerca Scusate Forse ho fatto una cavolata Andate su cerca E vi assicuro Che se andate qui E scrivete ad esempio Armi Se andate a cercare Armi Vi daranno un sacco Un sacco Di gruppi Ad esempio Proviamo a schiacciare il primo Ecco qua Come potete vedere Qua cosa abbiamo Adot.me Abbiamo Adot.me E abbiamo questo link A questo server privato Essendoci 3.3 milioni Di membri A questo canale Cioè a questo gruppo Le probabilità Che entrate in un server ricco Sono davvero davvero Molto alte Adesso vi vado a mostrare Il gruppo Che utilizzo sempre E vi giuro Quando entrate in questo gruppo Cioè quando Utilizzate i link Di questo gruppo Vi assicuro Che sono Ecco questo qua Fishy Robux Credo Sì Questi qua Adot.me 1 Adot.me 2 Adot.me 3 Adot.me 4 Adot.me 5 Questo qua E un youtuber famosissimo Americano Che praticamente fa Solo esclusivamente Video di Roblox Dove fa scambi assurdi E in questi link qua Sono tutti i suoi server privati Dove praticamente Ci sono Sapete Tutti quei Video Dove ci sono le persone Che vanno nelle caverne Con tipo La giraffa mega E cose del genere Questi qua sono i link Per entrare in quei server Qua Basta solamente Andare a cliccare Come sempre Ne scegliete uno Uno vale l'altro Ne scegliete uno Andate a cliccare sopra E una volta che andate a cliccare Stessa cosa di prima Si aprirà Roblox Ok Cambio schermata E vi farà anche qui Non so perché se Credo si sia buggato Perché mi fa connessione al server Sì Si è buggato Vabbè a volte capita anche questo Ma nulla Cioè dovete Basta che andate di nuovo Sul Su un altro server Sempre dei link Ovviamente da cliccare E come potete vedere Qui vi farà come prima Nuovo tentativo 3 4 5 E così via E ci metterà anche qui Un po' per entrare Ma vi giuro Che adesso Vi farò vedere Fra taglierò il video E vado direttamente Quando sono nella caverna Ma ne vale assolutamente La pena Siamo finalmente riusciti Ad entrare nel server E Non vi mostro di nuovo La casa Quindi vado direttamente Al centro Mi teletrasporto direttamente Al centro Perché non voglio Spoilerarvi nulla Ok come potete vedere Quando vi tenete Trasportato al centro Vedrete solo persone Che tipo scappano Vedete E vanno Adesso questa qua Si è bloccata Ma vanno praticamente Qua Nella grotta Dove si fanno I pet neon Perché non c'è nessuno Al centro Non c'è nessuno In giro Sono tutti Ragazzi sono tutti qui Eccoli qua Guardate quanti Cioè Veramente Cioè guardate Ci sono giraffe Owl Corby Evil Unicorn Cioè Frost Dragon Di tutto e di più Veramente Cioè come potete vedere Sono tantissimi E giraffaneon Addirittura Cioè veramente Questi qua sono server Super ultra ricchi Anzi A volte sono ancora più ricchi Di così E ci sono davvero Pet pazzeschi Quindi Tipo shadow mega O robe del genere Quindi Ah guardate qua Oddio non l'ho mai visto Non l'ho mai visto prima C'è un owl Mega Cioè come tutti i pet mega A me non fa impazzire A parte l'evil unicorn Che è davvero carino mega Cioè però guardate Non l'ho mai visto Ma davvero mai visto Wow Proviamo a prendere Eccola qua Prendiamo la roccia neon Anche se ce n'è una mega Addirittura Quindi magari qui Non gliene frega nulla Di avere una roccia Oddio Cosa è successo Quindi magari qui A nessuno frega Di avere la roccia Neon Ragazzi C'è un bat dragon Ragazzi Io voglio troppo Un bat dragon Non me lo darà mai Io lo so già Tanto che non me lo darà mai Ok mi ha rifiutato Senza nemmeno aggiungere Vabbè Comunque Niente Proviamo a fare trade A lui A 90 su 100 Qui non scambierete Quasi nulla Cioè a volte si A volte si Però sono davvero Boh non lo so Sono davvero strani Cioè qua per darti qualcosa A volte riesci a fare Bei scambi Tipo io ho scambiato Il lavender dragon neon E mi hanno dato 4 lavender dragon Più un polipo Più un ghost dragon Più un ice golem Più un t-rex Più Mi ricordo davvero Mi ha dato un sacco Un sacco di roba Quindi Cioè E a volte qua vi va bene A volte no A volte sono tirchi A volte vi danno un sacco di roba Dipende Veramente Vabbè Non lo so Vorrei fare qualche scambio Prova a scrivere trading Esperna cita Ci ha inviato una richiesta di trade Vediamo che cosa ci offre Per la mia roccia neon Allora Ci dà un dancing dragon Che non è male come offerta Perché il dancing dragon Anche questo qua Non si può trovare più Ed è più alto della roccia Però è neon Non lo so Secondo me potrebbero Frio un po' di più Ok Marina 2011 Ci ha inviato una richiesta di trade E andiamo a vedere che cosa ci offre Un pinguino neon Non male E il problema è che Il pinguino si può ancora prendere Ed è molto molto facile da prendere Quindi No grazie Proviamo a vedere se c'è ancora qualcuno interessato E poi comunque esco dal server Perché Vi devo mostrare l'ultimo L'ultimo trucco Che ragazzi Quello che uso sempre È velocissimo È praticamente immediato Cioè voi cliccate E siete dentro un server Ricco Nel giro di Un minuto Un secondo Veramente Quando ho trovato Cioè quando sono riuscito a trovare Questo metodo Da quando ce l'ho Ragazzi vi giuro Mi ha cambiato la vita Soprattutto per registrare i video Perché in due minuti Sono dentro un server ricco Quindi non devo più aspettare Tipo 10 20 minuti 15 minuti Cose strane A meno che non voglia entrare Proprio qui dentro In questo server In questi qua Delle caverne Che abbiamo mostrato prima I link Ah ok abbiamo una richiesta Di edge Strr46 Qualcosa A meno che quindi Non devo entrare qua dentro Per entrare nei classici server Ricchi Ci metto davvero davvero poco Ci offrono un sacco di cose carine Ok Questa qua è un'offerta Non male Perché questo non ce l'ho Questo non ce l'ho Questo non ce l'ho Questo non ce l'ho Questo ce l'ho E tutti questi Non ce li ho Niente Mi ha declinato Vabbè Non era male Però come offerta Vabbè E niente Non vedo nessuno interessato Quindi credo proprio Di mostrarvi L'ultimo trucco Quindi usciamo È male in cuore Da questo server Perché volevo andare A provare a fare degli scambi Ma comunque devo uscire Sennò il video diventa troppo lungo E vi mostro subito L'ultimo trucco Ok Allora Siamo di nuovo su Roblox Sulla pagina principale di Roblox Questo metodo funziona Sopra Cioè Mi sembra solo Se giocate Su computer Su pc Non so se funzioni Forse funziona anche su android Non ne sono sicuro Ma comunque Ve lo mostro subito Allora Si tratta di un'estensione Che comunque è sicurissima Ve lo assicuro E si chiama BTR Roblox E andate a digitare BTR Roblox Sulla barra di ricerca di Google E Dipende da Se usate Google Chrome Basta cliccare qui Quindi Chrome.google E vi darà Questa estensione Che si chiama BTR Roblox Making Roblox Better E adesso vi spiegherò un po' Che cosa fa Allora Io uso Firefox Ma c'è anche per Firefox Non c'è purtroppo per Safari Quindi se avete un Mac Purtroppo non c'è Ma comunque basta solo scaricarsi Chrome E' molto semplice da utilizzare Voi andate qui Se avete Chrome Io Firefox Comunque cliccate qua Scarica La scaricate E la troverete Qui sotto forma di Icona rossa BTR BTR Roblox E quello che fa Questa estensione E nulla Cioè non vi ruba l'account Non vi ruba la password Siete tranquilli E sicura Quello che va a fare E cambiare il So come dirlo in italiano Si dice layout Della pagina Quindi praticamente Quando voi andrete a cliccare Adopt me E andrete in basso Su server Al posto di andare Avanti di pagina Potete andare qua A scrivere Il numero che volete Della pagina Quindi ad esempio Se io voglio andare Alla pagina 50 Vedete Mi hanno portato Alla pagina 50 Cioè 50 Quindi Il trucco qual è Dovete andare Di solito sulla pagina 10 13 Una roba del genere Andate di sempre sulla pagina Facciamo 12 E via di mezzo Ok Troppo poco Pagina 10 Perfetto Anzi no Andiamo su pagina 11 Se voi andate su pagina 11 Ecco Vi darà Questi server 46 di 48 46 di 48 Praticamente Sono server ricchi Dove è uscito Magari qualcuno E voi potete entrare Subito Quindi adesso Riaggiorno la pagina Perché comunque È una cosa che deve essere Veloce Ok riaggiorno Andiamo a 46 Guardiamo sempre le icone E più o meno Ok facciamo questo qua Speriamo di essere stati Abbastanza veloci Perché vi giuro Dovete essere Super veloci Come vedete qua Non siamo stati abbastanza veloci Perché sto facendo Vedete Nuovo tentativo Quindi il server È di nuovo pieno Quindi andiamo a cambiare Server Aggiorniamo la pagina Ok Molto veloce 46 No dobbiamo Ok proviamo questo E come potete vedere Siamo entrati subito Cioè davvero Ci mettete due secondi Entrate E 90 su 100 Dico 90 su 100 Perché a volte No Ma 90 su 100 Siete in un server ricco Adesso Militare trasporto Sempre al centro Perché non voglio Spoilerarvi la casa Andiamo al centro E adesso Come potete vedere Guardate qua Siamo in un server Ricchissimo Abbiamo Bat Dragon Evil Unicorn Frost Dragon Cioè guardate Corvo Davvero È ricchissimo Quindi ci ho messo Un minuto Di meno anche Cioè può capitare Che magari il primo server È pieno Quindi perché dovete essere Molto veloci Come ho già detto prima Sono quei server Dove praticamente La gente esce E magari adesso Questo qua È un server pieno Io esco E c'è un posto libero Quindi dovete andare Super veloci Ok mi raccomando Di essere 47 O meglio ancora 46 di 48 Così siete sicuri Che entrate E come potete vedere È ricchissimo Questo qua È il metodo Che uso io Sempre Quindi è il migliore Ok mi hanno fatto Una richiesta Che non sono anche Cosa equipaggiato Su Spimarin Andiamo ad accettarla Prima di concludere Il video E vediamo Che cosa ci offre Per la mia roccia neon Ok ci ho detto Se possiamo aspettare Il mio computer Sta impazzendo Fa dei rumori strani Ma non credo Che voi potete sentirlo Con questo microfono Perché prende solo La mia voce E non prende I rumori esterni Quindi Non credo Ok ce l'ho presa apposta No thank you Quindi nulla Direi di concludere Qui questo video E mi raccomando Se vi è piaciuto Questo video Se volete Vedere altri Come questo Fatemelo sapere Giù nei commenti Riccomando Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo In un prossimo video Ciao Ciao